Armando Mancini saluta la ASL di Pescara. La giunta Marsilio infatti ha deciso di porre fine prima del tempo al suo mandato di direttore generale. Non ha raggiunto gli obiettivi preposti, ha dichiarato l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Ma nella conferenza stampa indetta da Mancini nel suo ultimo giorno da direttore, l'ormai ex numero uno della sanità pescarese ha fatto un bilancio del suo mandato, raccontando ai giornalisti i traguardi raggiunti. Oggi noi presentiamo quello che è un bilancio di mandato, perché il mio mandato volge al termine e quindi mi corre l'obbligo di dire le cose che sono state fatte in questi tre anni e mezzo e le cose che non sono state fatte. Chiaramente è un mandato che si interrompe prima della fine naturale, che sarebbe stata nel 2021, e quindi ci sono cose che sono in itinere e però queste verranno spiegate tutte quante. Sul fatto che io abbia raggiunto o non raggiunto gli obiettivi, penso che la questione, quando io potrò vedere la delibera di giunta, sarà valutata in altra sede. Armando Mancini non esclude di fare ricorso contro la regione, una volta che sarà formalizzata la sua esclusione. Tra le novità introdotte sotto la sua direzione vi è la telemedicina, così che i pazienti possano essere visitati anche a distanza, ma anche la battaglia per la salvaguardia dei presidi sanitari di Penne e Popoli, in maniera non perfettamente conforme alle intenzioni della giunta regionale. Siamo riusciti a mantenere vivi e vitali, che se ne dica, gli ospedali di Penne e Popoli e vi assicuro che non è stato facile, con le ristrettezze economiche di bilancio che avevamo, non è stato facile mantenere queste strutture così come erano.